Un nuovo tragico femminicidio avvenuto a Turisano, Lecce, dove una donna è stata uccisa dal marito durante una discussione. La coppia, genitori di quattro figli, viveva insieme nell'appartamento dove è avvenuto il crimine. La vittima, una donna di 53 anni, è stata accoltellata mortalmente. Il marito, dopo l'aggressione, ha attaccato anche una vicina, forse intervenuta per soccorrere la vittima, ferendola superficialmente. La vicina è stata portata in ospedale per ricevere cure e poter testimoniare agli inquirenti. Il femminicidio è avvenuto nella zona 167 del paese, precisamente in via Corvaglia. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo bloccando l'uomo responsabile, identificato come Albano Galati, con precedenti di polizia. Attualmente è stato di fermo e accusato dell'omicidio della moglie. Questo tragico episodio sottolinea ancora una volta l'urgente necessità di combattere la violenza di genere e proteggere le vittime. La comunità locale è sotto shock per l'accaduto, mentre le autorità si adoperano per fare luce sulla vicenda e assicurare giustizia. La presenza di quattro figli coinvolti rende ancora più dolorosa questa tragedia familiare.